Solo l'Altino ha giocato a Pasqua e neanche dietro l'angolo, a Modica in Terrasicula dove le Rossoblu hanno perso al tiebreak dopo aver condotto la gara 1-0 per poi subire la rimonta isolana. Più che buona la prestazione collettiva pur senza la presenza del duo Gatto Mastrilli con una Cavalenca in grande evidenza, 27 punti, 55% in attacco e 3 muri vincenti. Il resto riprenderà nel weekend, fatta eccezione per l'Abba Pineto che domani aprirà la pagina dei play-off. Appuntamento alle 20.30, ripetiamo domani al Pala Santa Maria con ingresso per adulti a 5 euro e un solo euro per gli under 18. In programma gara 1 dei quarti di finale per salire in A2, ritorno previsto in trasferta domenica 24 alle 18 ed eventuale bella di nuovo a Pineto giovedì 28 alle 20.30. Avversaria sarà quel Porto Maggiore, piccolo centro del Ferrarese, che un paio di mesi fa ha inflitto un sonoro 3-0 in terra abruzzese ai ragazzi di Bertoli che però avevano vinto con lo stesso punteggio in Emilia, scombinando tutti i piani di Calonico e Soci, i quali stavolta vengono chiamati a vincere non solo gara 1 ma, possibilmente, anche gara 2. Vale qualsiasi punteggio, occorre vincere e basta, erudendo la rischiosa Bella. Come? Semplicemente esprimendosi con la stessa forza esplosiva esibita contro la capolista Grotta Zolina, specialmente nella prima frazione. Non sarà facile ripetersi a quei livelli, ma se la squadra ci è riuscita, sia pure parzialmente, vuol dire che non può fermarsi con ogni rispetto di fronte al pur temibilissimo Porto Maggiore, finito al quinto posto ma con 12 punti di distacco dal Pineto, le cifre parlano da sole. Un unico augurio post pasquale che il pubblico sia presente numeroso e trascini la squadra nella direzione indicata sin dall'avvio da una società che vuole arrivare lontano.